1, 2, 3, 4 Bentornati all'eredità Sentiamo l'argomento della seconda scossa Di che parliamo? Ora parliamo di segni zodiacali Bene Con i miei occhi Come disse la marchesa Camminando su gli specchi Nella velo nera Ma nera nera Non mi arrendo Qualsia partiera Vedo nero Sai perché? Si Con i miei occhi Ora, ora 1, 2, 3, 4 Amici, bentornati all'eredità Ludovica Abbiamo un bel argomento oggi? Oggi parliamo di collezioni Ciao ad onore Ma siamo certi che quanto prima Qualche università provvederà per la genialità di Enrico Montessani Siete stati bravi? Allora facciamo subito un'altra scossa 1, 2, 3, 4 Di cosa parliamo? Parliamo di aeroporti Grazie a tutti Grazie a tutti